Ciao, sono Leo Margiotti, docente di Computer Grafica 1. Il mio corso ha come obiettivo quello di esplorare e insegnare agli studenti il fantastico mondo di Adobe, Adobe Creative Suite. Appareremo gli strumenti e i tools dei programmi come Illustrator, Photoshop e InDesign per portarvi a un percorso di apprendimento degli strumenti di grafica professionale. Il mio corso sarà sviluppato in due moduli, un modulo pratico dove faremo delle esercitazioni pratiche dei software e un percorso teorico per capire e conoscere le regole che un buon designer deve adottare per la progettazione grafica 2D. Io vi aspetto, iscrivetevi.